Radio Firenze Viola Tweet, Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Un caloroso buongiorno ai nostri ascoltatori Non ti plagano le voci per il dopo Pioli Dato ormai quasi per certa la partenza del mister a fine stagione Tra i nomi in testa alla lista nel stacquino della dirigenza Viola Rimane Sevio Di Francesco Come riportato da Tutto Sport il tecnico ora la Roma è il più ambito dalla Fiorentina Che può contare sugli ottimi rapporti con Palir Ramadani La gente che lo stisse Intanto Domenica si giocherà contro il Torino E in assenza di capire le condizioni di chiesa che comunque sarà convocato L'undice iniziale sarà caratterizzato dal tandem sudamericano Muriel Simeone Per mettere nel mirino la difesa Granata e strappare al Torino tre punti fondamentali per la corsa Europa Per Fiorentina1.com Antonio Tedesco Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola La voce del tifoso Viola La voce del tifoso Viola